Forma avvolgente, design sulla testa fasciante e anche ottimamente ventilato nonostante appartenga alla categoria dei caschi aereo. Questo che abbiamo provato in anteprima tra i amici di Cycling Side è l'ultimo arrivato tra i caschi d'altissima gamma di Lazare, il marchio di Shimano, ma la novità principale non è esterna, è nascosta e all'interno della calotta. La caratteristica di questo casco che si chiama vento Kineticore è in questa sorta di protuberanze di elementi talvolta romboidali, trapezoidali o piramidali che si trovano all'interno della calotta. Si tratta della tecnologia Kineticore che esordisce con questo vento ma che da oggi è declinata anche su una gamma piuttosto vasta di caschi da ciclismo della Lazare, caschi da mountain bike, caschi da commuting e caschi da tempo libero. Il Lazare è da dieci anni che studia sulla tecnologia da utilizzare sui suoi caschi, tecnologia proprietaria per la protezione. Dieci anni fatti di studi che vanno ben oltre i test di impatto di solito utilizzati da tanti produttori per certificare e per mettere sul mercato i propri prodotti, che considerano una forza perpendicolare, una forza d'urto perpendicolare, non una forza d'urto rotazionale e tangenziale che è quella più frequente quando ai noi siamo coinvolti in cadute in bicicletta. La forza sostanzialmente non viene diretta in senso perpendicolare alla calotta del casco e la calotta cranica, ma molto spesso ha una direzione tangenziale rispetto alla circonferenza descritta dal casco, quindi produce una forza rotazionale tra calotta del casco e calotta cranica. È sulla base di questo che è stata sviluppata la tecnologia Kineticore, per rendere l'idea l'effetto e la funzione di queste strutture e di queste protuberanze all'interno del casco è un po' simile a quello, almeno a quel che ci dice l'Azer, che accade alle autovetture reduci da un incidente quando la carrozzeria letteralmente si accartoccia e appunto in quel modo dissipa l'urto. Allo stesso modo queste strutture sottoposte alla forza appunto principalmente rotazionale dell'impatto si deformano, si piegano o addirittura si rompono disperdendo in questo modo l'energia d'urto, ma preservando l'integrità e la sicurezza del cranio. Beh, forse ci starete già pensando, già altre aziende hanno fatto qualche cosa di simile, sì è vero, aziende terze che forniscono una tecnologia simile ai vari produttori, molti al mondo. Effettivamente quella di MIPS, perché è facile, non possiamo non menzionare questa azienda che fino a ieri era partner anche di Lazer, ha strutturato una tecnologia che è finalizzata esattamente a sortire lo stesso effetto, quindi a tutire l'energia rotazionale delle cadute in bicicletta. La differenza è che da oggi Lazer ha il suo sistema proprietario che tra l'altro rispetto al MIPS non ha solo il vantaggio commerciale di avere una tecnologia proprietario che quindi costa meno. No, non soltanto questo. Il vantaggio, amici, di Sea Green Side è anche nella leggerezza, perché eliminando la calottina interna che su altri sistemi serve appunto a fungere da elemento che trasla e dissipa l'onda d'urto, in questo caso quindi si elimina quella calottina in più e si eliminano grammi, anche se la calottina nel tempo era stata effettivamente alleggerita, migliorata ed evoluta nelle varie versioni di quella tecnologia. Però qui siamo su un altro sistema, un altro standard tecnologico. L'altro vantaggio, oltre alla leggerezza, è quello della ventilazione, perché evidentemente evitare una calotta interna che si interpone tra calotta del casco e calotta cranica permette di avere maggiore possibilità di aerazione interna. Maggiore ventilazione significa che questo nuovo vento kinetic core è il 5.4 per cento, ci dice Lazer, più aerodinamico rispetto al suo predecessore che esce in gamma, quel Ballet 2.0 che appunto era il pinnacolo dei caschi aereo di Lazer e che adesso viene rimpiazzato degnamente da questo. A livello di paragone con il Ballet 2.0 decisamente migliori sono anche i parametri rispetto all'aerodinamica. Lazer dice che l'incremento aerodinamico è del 2 per cento e anche il confronto rispetto al parametro del peso è strepitoso a favore del nuovo vento perché siamo entrambi in taglia media e questo tra l'altro questo Ballet anche in versione standard, quindi senza MIPS, 358 grammi per questo Ballet 2.0 e 283 grammi per il nuovo vento kinetic core. Ripeto, entrambi caschi aerodinamici. Noi il vento kinetic core già abbiamo iniziato a provarlo, prima di darvi le prime impressioni un altro dettaglio importante sul retro. Al posto della classica rotella, in questo caso il nuovo vento kinetic core utilizza una originale, quantomai funzionale, cinghia a scorrimento con la quale si gestisce la ritenzione della fibbia interna che va a cingere calotta cranica e nuca. Tra l'altro per rimanere nella parte posteriore di questo foro sotto il sistema di regolazione è dedicato al nuovo led integrato compatibile con i caschi laser, un led a luce rossa ricaricabile con cavo magnetico, un ulteriore accessorio che incrementa la sicurezza dei caschi prodotti da questa azienda che i caschi li fa dal 1919. Altro dettaglio, nella parte anteriore prossima alle due feritoie laterali c'è una porzione in gomma morbida molto utile per tutti quei corridori che amano posizionare gli occhiali in configurazione da riposo sopra il casco rigirati. Ecco questo serve a non farglieli scivolare. Allora impressioni, prima di tutto io mi sono trovato subito a casa perché utilizzo abitualmente un casco laser Genesis con i caschi laser e mi trovo perfettamente a livello di fitting perché la mia conformazione anatomica è perfetta per la forma dei caschi laser e lo è stato anche per questo, il che significa che a livello generale di forma interna il design, il family feeling è lo stesso che caratterizza da anni i caschi laser. Vi dico anche a proposito che queste protuberanze interne non hanno nessuna incidenza a livello di sensibilità sulla pelle quindi non danno alcun fastidio e non si sentono affatto. Poi rispetto al Ballet 2.0 che avevo lungamente avuto modo di provare, in questo caso nel caso del nuovo vento Kinetic Core percepisce effettivamente una sensazione di aerodinamica garantita a prescindere da qual è la posizione della testa che tu assumi in quel momento, nel senso se sono ovviamente parliamo di velocità relativamente elevate, sopra i 40 all'ora almeno altrimenti queste cose non le percepisci proprio, se sei in posizione frontale effettivamente percepisci che il casco è molto penetrante, molto filante rispetto all'aria ma la stessa impressione ce l'hai anche se ti volti a girare indietro e quindi metti il casco in questa posizione, situazione nella quale percepisci lo stesso feeling aerodinamico. E allora arrivederci e a risentirsi al prossimo test amici di Cycle Inside. Ciao a tutti!